38. Joseph Rhein Joseph Banks Rhein, 1895-1980, statunitense, botanico, parapsicologo, il primo ad applicare metodi statistici alla trasmissione tra mente e mente, che chiamò percezione extrasensoriale, uno dei pionieri della parapsicologia, scrive «Nella storia di molti settori della ricerca, qualche fenomeno per lungo tempo non adeguatamente riconosciuto è stato poi la chiave di volta per importanti scoperte. La pietra, che una scienza frettolosa aveva trascurato, è diventata talvolta la pietra angolare della struttura successiva. Commento. La scienza, la fisica applicata, la fisica quantistica, le particelle elementari che si aggiungono continuamente all'atomo conosciuto finora dall'uomo e creano spazi che gli scienziati tentano di riempire attraverso povere formule matematiche, sono tutte aleatorie, perché sono il prodotto della mente che di per sé è aleatoria rispetto alla coscienza». Grazie a tutti.